Siamo a Borgotaro, grazie a Lavetti per le indicazioni, siamo entrati al bosco da 5 minuti più o meno, c'è questo estivo, bello, sano, c'è di ancorato, grazie Fabri, questo lo dico a te, non posso che dedicarlo a te, è l'unico che mi dà informazioni vere, che profumo ragazzi, di castagno, ciao!